Giuseppe Lombardi, classe 1980, nato e cresciuto a San Giovanni Rotondo, oggi è dirigente medico all'Istituto Oncologico Veneto a Padova. Ha lavorato in importanti centri oncologici tra New York e Parigi, è autore e coautore di numerose pubblicazioni e principale ricercatore in molteplici studi clinici sui nuovi trattamenti per i pazienti affetti da tumori cerebrali. Nei giorni scorsi è stato insignito dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica del premio Marco Venturini, quale miglior giovane oncologo italiano. Il lunedì 16 dicembre nell'aula consigliare di San Giovanni Rotondo gli è stato conferito un incomio solenne per la ricerca scientifica e l'attività professionale condotte al lustro e pregio della città di San Giovanni Rotondo. Come si legge nella delibera comunale, come sottolineato dal sindaco della città di San Pio, orgoglioso dei risultati del suo concittadino. Possiamo parlare di una delibera della città più che della giunta, veramente a, non dico come si dice, a furor di popolo ma certamente con i messaggi che mi sono arrivati abbiamo capito l'importanza di questo studio fatto dal nostro concittadino, dobbiamo essere certamente orgogliosi e una comunità si riconosce anche intorno alle eccellenze che riesce ad esprimere e dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo rendere, come dire, palese l'affetto della città nei confronti dei propri cittadini in questi momenti così importanti. Poi tra l'altro nel campo sanitario dove si risolvono problemi veri delle persone, quindi mi ha inorgoglito questa cerimonia, questa onorificenza dato a Giuseppe Lombardi, ma credo ce ne saranno delle altre perché i nostri giovani si stanno facendo strada purtroppo fuori, ma io credo che noi dobbiamo puntare molto a questo riconoscimento ai nostri cittadini. Emozionato e grato a San Giovanni Rotondo per l'affetto e la stima che da sempre li riserva, il dottor Giuseppe Lombardi ha rivelato che l'onorificenza ricevuta dalla sua città natale è senza dubbio la più apprezzata. Penso che questo sia il premio più bello che ho ricevuto finora, è un premio che ha la particolarità di essere dato dall'affetto del mio paese, un affetto del mio paese che è sempre nel mio cuore e rimane la mia casa ogni volta che arrivo. Tra i tanti premi e riconoscimenti per la sua attività di ricerca, l'ultimo quello più prestigioso, un'importante ricerca sul glioblastoma, di che cosa si tratta? Noi abbiamo fatto uno studio per andare ad analizzare un farmaco nuovo, un trattamento nuovo per i pazienti con recidiva di glioblastoma. Il glioblastoma è un tumore più frequente tumore cerebrale maligno nelle persone adulte e purtroppo è uno dei più aggressivi, quindi non ci sono tanti trattamenti a disposizione, soprattutto nelle persone che recidivano dopo una prima chirurgia e un primo trattamento oncologico, praticamente non c'è un farmaco che possa aumentarne la sopravvivenza. Allora noi per la prima volta, questo dopo 15 anni a livello internazionale, abbiamo individuato un nuovo trattamento che ha dimostrato di aumentarne la sopravvivenza. Quindi a distanza di un anno da chi iniziava il trattamento sperimentale rispetto a quelli che utilizzavano il trattamento standard, il doppio di pazienti sopravviveva ad un anno rispetto ai pazienti che facevano il trattamento standard. Rimane, diciamo, questa patologia ancora una frontiera aperta da analizzare nel campo oncologico, quindi benvenga alla ricerca in questo settore.